E' l'IS, un brand che conosce la sua apertura nazionale in una cornice suggestiva che è Palazzo Caracciolo, eretto appunto ai Principi Caracciolo, donato dal re Roberto D'Angione nel 1584, vede questo stile funzionale, dinamico, raffinato, regale, trionfare dietro alla personalità dei suoi capi, dei veri e propri accessori, parliamo di borse. Abbiamo intervistato Fabrizio Mecchi, la testimonia al dietro al suo facile sulleganza mediterranea Laura Torrisi e Carina Cascella che presenterà ovviamente la serata. Una cena esclusiva, siamo al fianco di Maria Grazia Del Gaudino, a tutto ciao e benvenuta. Ciao, buonasera a tutti. Una che se ne intende di passerelle, ecco, reddice anche da Miss Italia. Quanto è importante far veicolare anche brand giovani, freschi, dietro ovviamente una generalità e una creatività delle sue maestranze sartoriali, ben vengono anche il brand sempre Made in Italy, no? Beh, è importantissimo dal momento che il Made in Italy nel periodo storico della moda è passato un po' in secondo piano rispetto alla moda mondiale. È molto bello che i giovani abbiano la voglia e la forza di poter portare il Made in Italy, che sia il design di una borsa, il design di un vestito. Io per esempio indosso un vestito di Giuda. È molto, molto importante perché ci stiamo facendo largo nella moda mondiale. Questo è ottimo. Ascolta, chiudiamo, la testimonial, Laura Torisi arriva praticamente da un reality che è stato grande fratello, no? Tu che ne pensi? Hanno appiattito o semplicemente hanno assecondato la domanda e l'offerta di oggi dei Valencia Estreli Sivi in confronto al pubblico e ricerca? No, diciamo che i reality show sono per la maggior parte una sorta di rinascita, diciamo così, soprattutto da quando hanno inoltrato il grande fratello VIP, l'isola dei famosi VIP. Insomma, sono quei VIP a cui serve un valore aggiunto, quindi ben venga. Noi possiamo dare il via alle immagini con Maria Grazia del Gaudio. A voi una cordiale buona serata. Buona serata. Senti Laura, un brand che rispecchia lo stile funzionale, dinamico, di personalità, si parla prima con l'art director, quanto ti rappresenta e ti rispecchia nell'anima la personalità soprattutto? La personalità in una persona in generale, ma in una donna è tutto e comunque ribadisco che per quanto mi riguarda mi ha colpito tantissimo l'eleganza di questa linea. Ok, grazie. Elis, un brand nella sua apertura, overtura ovviamente nazionale, abbiamo incontrato con lei che detterà i tempi e la maestria di questa serata, sovranata dell'opinionista nazionale, Carina Cascella. Ciao e' nato, benvenuta. Buonasera, grazie. Uno scotto del novizio, si paga stasera, questo brand nella sua apertura nazionale, uno stile funzionale, elegante, raffinato e intriso di personalità, che mi rimette subito un attimo la tua anima, non so perché. Ma sì, forse evidentemente hanno voluto me, insomma, ad aprire queste danze perché credo che Elis come brand di borse si riferisca proprio a una donna di carattere dalla forte personalità, quindi direi che può andare. Perché non guasto un proscenio suggestivo, eretto dai principi Caracciolo, donato a Roberto D'Angione, il Cinquecento, come dire, un'ulteriore perla, perché se ne parla sempre male, ma un patrimonio artistico, culturale, no? Tu sei una campana d'occhio, ricordiamolo, ecco, infinito. Infinito, sono molto contenta che ancora una volta Napoli diventa capitale della moda, no? In un certo senso perché si sceglie appunto la città di Napoli per questo lancio di questo nuovo brand in una location prestigiosissima appunto come quella di Palazzo Caracciolo. Ascolta, all'indomani della festa della donna, che era appena ieri, come si può riscattare, amplificare, consolidare l'io della donna che è sempre, ancora oggi, una società anarchica, egoista come quella maschile, spesso sberleffata, violentata, tramobbing, stalking, violenza di genere, femminicidio? Il tuo pensiero è merito? Eh, guarda, io sono una che si esprime poco rispetto a queste situazioni perché specialmente ultimamente si sentono delle notizie di cronaca veramente aberranti, nel senso che la donna è il motore che muove questo mondo, ma non è un discorso femminista il mio, è un discorso, è un dato oggettivo di fatto, no? La donna è brava nel trasformare tante cose, mette al mondo dei figli, porta avanti tante, tante cose tutte insieme, ci vuole più rispetto, ci vuole più comprensione. A proposito di figli, ho visto che hai deciso di dare il volto al tuo compagno. Ah, sì, è vero, ho dato un volto a colui che rende la mia vita meravigliosa. E tu che sei tosta, che ci hai pensato in tutti questi anni, perciò anche con tua figlia, a Ginevra. Sì, io ho una bambina bellissima, di quasi otto anni, ad aprile, bellissima per me, la bambina più bella del mondo ovviamente, come tutte le mamme, è il centro della mia vita e adesso, insomma, coronare e a chiudere il cerchio è arrivato il mio fidanzato. E poi so che lei vuole l'esclusiva. Sì, la mia bambina è come tutti i figli unici, insomma, teme un pochino il confronto con un fratellino. Non so, non si può non parlare i tuoi giudizi incisivi, no? Ho visto recentemente la Comedica Live, poi c'è stata una rida di haters, poi sul social, ma ti diverte anche molto. Come a dire, ma tu che lavoro fai, no? E tu mi, giustamente, fai bene a rivendicare, sono 15 anni che sono in TV, mi cercano, mi vogliono, no? Come dire, a leggere la domanda dell'offerta, no? No, ma a prescindere da questo, per me la televisione è sempre stata un gioco, penso che chi faccia televisione veramente siano altre persone, sicuramente non io. Sono persone, insomma, che hanno un mestiere, che conducono programmi da anni e anni, però è anche vero che il cerchio, il giro della televisione si compone anche di personaggi come me che magari possono animare un talk e lo facciano in maniera a volte anche incisiva, quindi ci sta. Ascolta, guardando un po', ecco, il Cannagate, quello che è successo sull'isola, no? A questo punto chi è la vittima? La Anger o Francesco Moni? No, ho sempre espresso la mia opinione, per me la vittima, tra virgolette, è stato Monte, ma forse è tutto il pubblico che non meritava di vedere una serie di puntate incentrate su questo discorso qui. In reality è una trasmissione di intrattenimento e doveva avere come base tutt'altro che il Cannagate, però Eva ha deciso di rendere pubblica questa cosa, adesso vera o non vera, secondo me ha sbagliato i tempi, i modi. Poi c'è una mia cara amica, che a te è molto simpatica, Rosa Verrotta. No, ma guarda, io non ho nulla contro Rosa, ho rilasciato una specie di intervista con Manuela Gentilin, ultime dall'isola, che non era assolutamente, insomma, un discriminare Rosa. Mi è stato chiesto semplicemente all'interno del litigio che lei aveva avuto con la Mancini che cosa ne pensavo e io lì ho detto che in quella circostanza l'ho trovata saccente, però non ho nulla contro Rosa in realtà. I tuoi fani che non so perché ti vogliono riportare dove è iniziata un po' la tua parabola, il dating show ovviamente è la dei Filippi, no? Ma oggi devo dire che sei una donna consapevole, sensibile, sempre pronta a rispettare le esigenze della famiglia, no? Quindi con un occhio un po' diverso, una pressione un po' diversa, come dire, ben venga quel passato, ma oggi c'è una consapevolezza diversa guardando un po' il tuo futuro, no? Assolutamente, ma tutte le esperienze aiutano a crescere, io tornassi indietro rifarei tutto quello che ho fatto, da A alla Z, tornerei anche a uomini e donne, nel senso nel momento in cui ti arriva una chiamata da Maria si accetta sempre volentieri. Questo non vuol dire che il giorno dopo io sia in trasmissione, le persone quando tu parli di questa cosa automaticamente ti rivedono lì, però lo capisco. Giusto per far capire a loro che alcuni dettagli della tua vita non la conoscono, che tu hai rinunciato all'isola per amore di Ginevra. Sì, ho rinunciato all'isola quest'anno perché, diciamo che anche l'anno scorso era arrivata una telefonatina, perché io non riesco a stare lontano da mia figlia. Penso che, insomma, se uno mette al mondo dei figli ed è un pensiero puramente personale mio, rispetto le scelte di altre mamme che hanno fatto l'isola, ma io non la condivido assolutamente. Io con mia figlia ci voglio stare, è ancora troppo piccola e quando sarà più grande io avrò un'età per cui sicuramente non vado più all'isola dei famosi, quindi va bene così. Senti, e chiudiamo, impazza sempre questa chirurgia estetica, no? Tu sei sempre stata contraria solo nel caso che per motivi di salute, no? No, 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 io non sono contraria, anche perché comunque io mi sono rivolta alla chirurgia per quanto riguarda una mastoplastica, nel senso che ho rifatto il seno. Credo che però non bisogna mai esagerare. Non mi piacciono le labbra a canotto, non mi piacciono gli zigomi da gatto, non mi piace la trasformazione che va a ridicolizzare quella che è la nostra figura. Migliorarci sì, rendersi ridicole no. Il futuro? Il futuro io immagino me felice con la mia bambina, il mio compagno, i cani, la serenità. E in questa serenità, non so perché mi è venuta in mente Max, ma la trasmissione, i protagonisti, no? Come li saluteresti? I protagonisti di... E la trasmissione, i protagonisti. Ha detto Max, non so perché, questo nome mi viene in mente, mi ricorda qualcosa o qualcuna? Anche a me ricorda qualcuno. Vicino a te. Esattamente, sei uno che veramente sa tutto, è pazzesco. Ma li saluterei augurando insomma tante cose belle e un futuro meraviglioso a tutti. Come io te lo auguro a te nel tuo caso, eh? Complimenti e grazie, anche per la morbidezza emotiva che stai donando a questa intervista, grazie. Grazie, grazie mille a voi, davvero. Grazie. Elis, un brand che stasera ha lo scotto del novizio, nella sua anteprima nazionale, non poteva scegliere una cornice più degna. Siamo in compagnia del suo art director Fabrizio Michi. Ciao innanzitutto e benvenuto. Benvenuti a voi. Allora, Elis innanzitutto mi fa sentire il respiro delle antiche botteghe italiane dove fonde sapienza e classe, dietro a uno stile funzionale, dinamico, elegante, intriso di personalità. E da qui forse anche quella scelta di uno dei patrimoni culturali più ambiti di questa città che è Napoli, no? Eh beh sì, ha centrato in pieno tutta la nostra filosofia. Noi abbiamo questa tradizione che parte un pochettino da lontano, però l'abbiamo voluto arricchire con l'innovazione e con l'eleganza che non guassano mai. Tipici gli italiani, infatti il nostro brand che è italiano, fatto in Italia, con materiali di altissima qualità, ha voluto tirare fuori tutto quello che era il bello dell'Italia, per delle donne che vogliono essere eleganti con un pizzico di innovazione. Strategia di marketing, relazioni unite per una comunicazione internazionale affinché questo brand possa viversi e respirare i migliori salotti modaioli dell'intera penisola, no? Beh certo, per adesso iniziamo con l'intera penisola, ma dopo di che andiamo anche fuori. Deve essere un brand che tocca tutti i salotti migliori dell'Italia, quei salotti che sanno apprezzare il bello di una linea innovativa che rispetta la tradizione. E questa tradizione la ringraziamo per portare sempre nuova cultura e soprattutto le eccellenze italiane trionfino sempre di più, soprattutto in un clima di austerity come quella istituzionale, tanto per fare un esempio. Beh direi di sì, però forse in maniera un po' così sbagliata, perché troppo poi, austerity esagerata. Noi dobbiamo riscoprire il bello, il bello che noi abbiamo in Italia, il gusto delle nostre cose. E noi ripartiamo proprio dalle nostre borse. Le borse Elisse sono belle, ci piacciono e noi le vogliamo portare ovunque. Complimenti e buona serata. Grazie anche a voi, spero che vi piaccia. Elisse è un brand che vede la sua nascita questa sera nella sua anteprima nazionale e chi meglio di lei non poteva non celebrarla in un parterre gremito di artisti. Lei è la modella di punta, principe del Novero nel panorama italiano, sopra una della Sise Elisse. Ciao, benvenuta e benvenuta. Ciao, buonasera. Benvenono questi brand nuovi, frizzanti, funzionali, dinamici, eleganti, intrisi anche di solità, ho visto. Un po' rispecchia la tua anima a questo punto. Sì, è vero. Ha dei colori pazzeschi, è molto bello, molto elegante, giovanile. Mi piace molto. Ascolta, la moda italiana, ovviamente dopo la Fashion Week di Milano, a che punto è? Nel senso, rinnovare il marchio Italy è sempre un'affermazione anche nel mondo e modelli come te lo sanno veicolare ovviamente in maniera festante. Sì, è vero. Soprattutto poi nell'era di questa globalizzazione, benvenga sempre che Made in Italy abbia sempre furore dietro le sue maestranze, i suoi artisti. No? Sì, Made in Italy è top. Io adoro la moda italiana, la gatticina cubana e adoro l'Italia. C'è il numero uno veramente. La Sicilis, quali passerelle andrà praticamente a calcare da qui a poco? Babbè, adesso in questo momento faccio testimoni per Rocco Barocco, faccio la campagna, shooting, sfilate e tutto quanto. Ora faccio uno shooting alle Maldives per un brand sempre napolitano. Eh, vabbè, complimenti. Un bacio. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.